bella a tutti ragazzi come potete vedere siamo tornati su destiny anche perché volevo farvi vedere una cosa io l'altro giorno ho detto che qua era tipo una cosa del multiplayer invece no da quello che ho capito questa qui è single player o ci potete entrare con degli amici se fate le missioni insieme niente oggi vi voglio far vedere il multiplayer proprio il multiplayer di questo gioco ok il multiplayer è questo come potete vedere ci sono un tot di modalità non so se queste qui sono chiuse per la beta o bisogna sbloccare più avanti comunque l'unica che c'è disponibile adesso è questa ok come potete vedere ci ha trovato i giocatori e quindi adesso ci sta portando in partita adesso vedremo realmente come sarà il gioco quindi siamo sulla luna e bella come mappa io l'avevo già provata in precedenza non è malvagia controllo bravo team si va bene andiamo a piedi non c'è problema noi ce la chiamiamo anche a piedi siamo abili che la chiamiamo a piedi che la chiamiamo a piedi non c'è che ci sono E il primo ce lo siamo pappati. Ah no, cazzo, devo ancora conquistarla. Vedi, ci sono anche dei mezzi abbastanza pesanti. Noi ci effettiamo questo. Mamma mia, ha quasi fatto il pelo questo, eh. Muori, sacco. Sfuggiamo i mezzi, perché così almeno evitiamo che qualcuno arriva e se lo prende. Adesso sto anche cercando di vedere se riesco a recuperarvi la bedda di... quella di Butterfield. Don't aid, lost. Don't aid, secure. All zone's hell. You have total control. Merda! Muori. Mamma mia, sono troppo figo, ragazzi. Mi auto-ammazzo, ragazzi. Sono talmente figo che mi auto-ammazzo. Zona da C, punto C. Vediamo se riusciamo ad andarlo a recuperare. Poi ho scoperto che ognuno di loro ha tipo un'abilità. basta tenere premuti insieme due tasti e si attiva l'abilità. Io mi sembra che ho una pistola di fuoco. Adesso appena incontrerò il primo nemico la caccerò fuori. Ok. Un po' più salto. Ed ecco, questa qui è la mia abilità. Con un colpo li ammazzate quando avete l'abilità, senza problemi. nooo, minchia, si è messo a caricare, cazzo. Ho avuto quella sfiga di merda che si è messo a caricare. Se no, questo ramo li ero fatti tranquillamente. Senza alcun problema, proprio. Liscio, liscio, come l'olio. Beh, vediamo come procedere. Doppio salto. In scioltezza. Ah, questa qui l'abbiamo presa, però... non caccia più fuori le macchinette. C'è le macchinette e i mezzi. Cioè, ma sarei un figlio di puttana. Poi il bello è quando trovi gli handicappati come questo che ti portano a morire perché sono down. Senza offesa per i down, perché... questa qui è proprio gente stupida. E ti frego pure il mezzo, merda. Ah, sono morto così brutalmente e neanche me ne sono reso conto. Ma fighissimo. Cioè, uno sogna tutta la vita di morire così. Tu muori e non te ne rendi conto. Andiamo a conquistare la zona. Posirebbe andare nella zona C. munizioni. Prendiamo. E andiamo via lì. Isci, risci. Isci, risci un paio di coglioni. che mi segnala ah era qualcosa grosso era qualcosa grosso cerchiamo di conquistare questa zona vediamo come va bisogna rompere il cerchio e poi riconquistarlo come tutti i giochi di conquista in teoria la beta dovrebbe scadere il 15 cioè praticamente domani quindi penso che questa sia l'unica modalità che ci possa essere per il momento mamma mia ragazzi è uscito fuori così all'improvviso l'ha guardato gli ha sorriso e puff morto sì vabbè lui mi ha guardato mi ha sfondato ah vabbè aveva anche il fucile a pompa figuriamoci no quando mai la gente qua non va in giro con tutti i giochi è una cosa veramente bruttissima in tutti i giochi fanno il fucile a pompa che è una roba devastante in tutti i giochi qui ci poteva stare perché comunque sia era a distanza ravvicinata però bisogna vedere se a distanza media o alta cioè faccia danno lo stesso guarda guarda fa un bocca che sono morente ci ho capito un cazzo andiamo a prenderci la C allora tutto sicuro mica questo qui l'ho coltellato da fare schifo mamma mia ragazzi qua ho fatto diciamo un po' di cinema vediamo cosa riusciamo a combinar aia c'è parcheggiamo all'interno aia diciamo che ce la stiamo cavando abbastanza bene ok questa l'abbiamo catturata bella questo qui è un mezzo fighissimo che mi piace un bot a me ah l'ho ucciso il tipo eh voleva scappare fare il figo lui non mi prendi ma io li prendo ovunque li prendo ma mi faccio anche l'ultima kill è andata ragazzi questo era il multiplayer di destiny spero che il video vi sia piaciuto adesso vi farò vedere anche un'ultima come due cose praticamente pian piano che uno gioca può potenziare come si dice il proprio omino tipo io vado qua no vabbè usciamo ah no scusate ti ho detto una cagata l'illumino lo potenziate da un'altra schermata praticamente voi andate su questa schermata qui e potete questa all'interno di questa schermata qui voi vedete avete queste cose qua pian piano che giocate queste questi 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 simboli si riempiono di il contorno verde si riempie quando è completamente pieno voi potete selezionare e sbloccate delle abilità scudi tutte cose che vi possono essere utili però penso che dovete tipo usare quel tipo di abilità per poterla sbloccare penso che alcuni siano basi sbloccano tranquillamente altre dovrete usare le abilità bene ragazzi con questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere qualcosa e ci vediamo alla prossima ciao belli ciao 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 Grazie.